Prima di dirvi di che cosa si tratta mi permetto di dire quali sono le motivazioni che ci hanno portato a questo progetto come gruppo Donne Manager. Innanzitutto l'immobilismo del mercato del lavoro, poi un tema che a noi sta particolarmente caro che è la rivalutazione dei signori in azienda. Noi proprio come Manager Italia abbiamo subito in questi ultimi anni un grave depauramento del manager nelle aziende. Se solo pensiamo a quello che è il numero delle persone che sono state espulse dall'azienda, abbiamo avuto dei picchi veramente incredibili dagli 8 ai 10 mila manager per anno e quindi ci siamo chiesti come poter anche ovviare in qualche modo a questo grosso problema. E poi anche la possibilità di usufruire di alcuni provvedimenti che ci sono già in atto dal punto di vista legislativo e normativo e che purtroppo sono ignorati o sottovalutati dalle aziende. Detto questo abbiamo pensato ad un progetto che in modo concreto potesse sostenere le aziende in quello che noi riteniamo essere sicuramente una grande occasione per le aziende stesse per fare un salto di qualità e come? Proprio valorizzando quelle risorse che ci sono al proprio interno e al contempo provare a favorire anche l'inserimento di giovani che possono portare innovazione che possono portare quel quid che forse manca al senior ma la cui esperienza è sicuramente di grande valore per le aziende. Allora innanzitutto si tratta di due proposte che proprio coinvolgono la contrattualistica e due sono più di tipo organizzativo. Le prime ad esempio c'è la staffetta e il variabile subito dopo. La staffetta che cos'è? Non è altro che la possibilità per un senior di diminuire il proprio orario di lavoro e mettere quanto l'azienda risparmia su questo a disposizione dell'inserimento di un giovane. Naturalmente tutto questo non deve andare ad inficiare quella che è la contribuzione a livello pensionistico perché altrimenti il senior ne avrebbe un grosso danno. In questo ci è venuta in aiuto anche una legislazione che in qualche modo parallelamente alla nostra iniziativa si è fatta avanti e ci sono iniziative che prevedono proprio da parte dell'Inps un recover, quindi una copertura dei contributi mancati in modo da permettere al senior di non avere alcun decurtamento in quello che è la montare della pensione. Per quanto riguarda invece il variabile è un po' un chiedere ai senior di mettersi ancora in gioco. Laddove alcuni affermano che ad esempio i senior prossimi quindi alla pensione lavorino con meno entusiasmo, bene tra l'altro noi con una nostra indagine abbiamo assolutamente sfatato questa affermazione, diciamo che proprio i senior lavorano con lo stesso entusiasmo di sempre e quindi cosa accade? Che accettano, questa naturalmente è una proposta che viene fatta proprio a livello volontariato, di puro volontariato, quindi il senior accetta di fermare un po' quello che è la sua rendita mensile, il suo stipendio fisso e di aggiungere un variabile, un variabile che naturalmente dipenderà dai risultati che poi riporta in azienda. Naturalmente questi obiettivi dovranno essere ben misurabili e quindi frutto di un accordo poi sostenuto anche da parte del sindacato e cosa avviene? Che il signore in questo modo si rimette un po' in gioco perché dovrà proprio dimostrare all'azienda quanto la sua competenza, la sua esperienza può addirittura permettergli di avere uno stipendio maggiore che in precedenza solo con il fisso perché raggiungerà sicuramente quegli obiettivi che si sono posti. Anche in questo caso ovviamente la parte di fisso che è stata fermata e decurtata in qualche modo andrà a favore dell'inserimento di un giovane. Ci sono poi due progetti che sono, due proposte che sono di tipo organizzativo e sono il tandem e il mentoring. Il primo ha lo scopo di mettere un po' sulla stessa posizione sia il giovane che viene inserito in azienda che il senior. Li mettiamo a confrontarsi e a lavorare su uno stesso obiettivo che se raggiunto porterà ad un premio equamente diviso fra signore e junior. Cosa avviene solitamente in azienda? Che una persona appena inserita di certo non viene né messo a lavorare su un obiettivo importante né tantomeno riceve un compenso per il raggiungimento di questo obiettivo. Solitamente questo è più una prassi che viene adottata con dei signori. In questo modo il signore e il junior mettono insieme le proprie competenze, le proprie conoscenze, le proprie esperienze per raggiungere un obiettivo raggiunto il quale l'azienda premierà equamente entrambi e per questo questo noi crediamo sia assolutamente un'innovazione in azienda, un modo diverso di concepire proprio il lavoro e il rapporto di lavoro tra azienda e collaboratore. junior e senior. L'altra proposta riguarda il mentoring. Qui è un po' il vecchio sistema di tutoraggio, quindi il senior che affianca il giovane proprio per trasferire la propria esperienza, le proprie competenze per mettere un cambio generazionale soft. Ma noi è da tempo che diciamo che è assolutamente importante, rilevante e significativo il ruolo dei manager in azienda. È vero sono dei dipendenti ma sono anche dei decision makers e quindi come tali hanno la possibilità di fare proprio quel cambiamento culturale che proprio anche il nostro progetto Interaging chiede alle aziende di fare. È assolutamente importante l'azione del manager ma soprattutto perché in questi ultimi tempi il manager ha acquisito la consapevolezza di quanto sia importante la collaborazione proprio con tutti i dipendenti, con tutti i collaboratori, come vincente sia il team, la squadra. Quindi decisioni che sempre meno sono top down, sempre più spesso sono down top o perlomeno sono il frutto di una collaborazione tra management e collaboratori d'azienda. Molto semplicemente contattare Manager Italia. Questo progetto è partito e sta partendo dalla Lombardia quindi ci sono già aziende del milanese che tra l'altro in qualche modo erano già in contatto con noi che ci hanno chiesto e ci stanno chiedendo di iniziare con noi questo percorso. E quindi cosa fare? Rivolgersi semplicemente a Manager Italia Milano però potranno in futuro, proprio a breve termine, tutte le aziende nel territorio nazionale rivolgersi alla sede territoriale di Manager Italia. Molto semplicemente se io ritengo ad esempio di avere la necessità di diminuire il mio orario di lavoro senza per questo andare ad inficiare quella che sono poi i contributi per la pensione, piuttosto che sentire anche la necessità di aiutare dei giovani che possono entrare nella mia azienda. Bene, mi rivolgo alla mia azienda, all'ufficio personale o al mio top management. Faccio presente che in Manager Italia c'è questo bel progetto che può aiutare l'azienda in questo cambiamento che non è soltanto di tipo culturale, che per noi è fondamentale, ma che comporta una serie di benefici per l'azienda e per la società tutta e quindi inizierei a fare questo percorso con l'assistenza di Manager Italia. Noi mettiamo a disposizione delle aziende che ce lo chiedono, dei nostri professionisti che abbiamo formato, fondamentalmente sono dei colleghi che volontariamente hanno messo a disposizione del loro tempo per questo progetto e che saranno coloro che affiancheranno l'azienda durante questo percorso previsto da un kit metodologico che più che altro, come dice proprio la parola stessa, dà un metodo di lavoro alle aziende su questo tema.